E' di fondamentale importanza promuovere nella società la crescita del livello di empatia, affinché nessuno rimanga indifferente alle invocazioni di aiuto del prossimo, anche quando è afflitto da una malattia rara. Sappiamo che talvolta non è possibile trovare soluzioni rapide a patologie complesse, ma sempre si può rispondere con sollecitudine a queste persone che spesso si sentono abbandonate e trascurate. Così Papa Francesco ha salutato i partecipanti alla terza conferenza internazionale sulla medicina rigenerativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura. Con un approccio interdisciplinare teso a far dialogare scienza e fede sui temi della medicina, della ricerca cellulare e delle tecnologie della ricerca, la comunità di scienziati e ricercatori provenienti da varie parti del mondo ha fatto il punto sui più recenti traguardi raggiunti anche nella lotta alle malattie rare. Un'occasione di confronto e di scambio di cui ci parla Monsignor Thomas Trafni, direttore del Dipartimento Scienza e Fede del Pontificio Consiglio della Cultura. La medicina rigenerativa non è un campo che si può rilegare o ridurre alla mera tecnicità, alla mera scienza. Coinvolge diverse realtà sociali, diversi concetti che non sono soltanto concetti scientifici, ma anche antropologici. È chiaro che tra moltissimi scienziati che operano nel campo della ricerca non tutti condividono la stessa realtà dei valori, non tutti sono cristiani, ma ci sembra giusto poter dialogare con tutti per scambiare anche le nostre sensibilità, per poter promuovere un dialogo aperto. La promozione della ricerca viene quindi incoraggiata in una dimensione rispettosa della vita umana e della sua dignità. Un proposito che è ormai realtà, come ci spiega Robin Smith, presidente della fondazione The STEM for Life. Credo che la scienza e i dati siano molto in linea con la dimensione etica in cui mettiamo insieme la prospettiva della scienza e quella dell'efficacia, in cui la terapia sulle cellule staminali adulte è sempre più importante nella medicina rigenerativa, ma anche nella cura del cancro. Dei progressi nella lotta contro il cancro ne abbiamo parlato con il ricercatore Patrick Soon-Shong. Quella che abbiamo presentato in questo incontro è stata una ricerca sul cancro con l'idea di identificare e creare un vaccino contro di esso. Per la prima volta possiamo tracciare la sequenza del genoma di un paziente effetto da cancro e cercare di risvegliare le cellule in tutto il suo corpo, iniettandogli un virus con una sequenza che educhi le sue cellule a cercare di distruggere il cancro. Ma il corpo è programmato per proteggersi, quindi il nostro lavoro è quello di reeducarlo a farlo. Quindi pensiamo veramente che la nostra ricerca si sviluppi proprio nel quadro di quanto ci è stato donato per la protezione del corpo umano.